amici del mio genio oggi voglio far provare mia mamma la lasagna quella americana vediamo se le piace l'idea mamma viene un attimo oggi mangiamo questo la lasagna ho capito questo è il sugo no no questa è tutta la lasagna la lasagna ma stai a scherzare la lasagna queste qua mangiamo e la lasagna americana non le mai mangiate buona è una prelibatezza voglio cucinarla io per voi facciamo solo una prova se non vi piace lasciamo papà tu la vuoi la lasagna se buona va bene proviamo cucino io eccola qui amici proviamo lasagna americana ma viene a vedere eccola qua e questo sarebbe una lasagna ma guarda che nino questo non lo mangia nino d'angelo gli piace no ma che sei padre dai senti che io dovevo piacere già una brutta esperienza eh ragazzi spero voglio fargli vedere mio padre vieni qua un attimo vuoi vedere la lasagna americana vuoi vedere la lasagna americana eh vedi bene non ci pensare proprio guarda e guarda ah ma che schifo guarda è come la lasagna americana dai che buona cucino io ah proviamo ma cucino io cucini tu e mangi solo tu sinceramente non capisco tutta questa diffidenza avesse un prodotto americano solo perché non è italiano che dici ma che significa che non è italiano ma ti pare che uno ma la lasagna americana ma stai dando i numeri ma tu sei proprio ma per provare per provare infatti come è un sempre così male allora seguite due tre formaggio no quella lasagna a tavola eccomi ecco la lasagna con tutto l'amore che sembra pasta solo che la chiamano lasagna guarda con tutto il bene che ti voglio non mi puoi costringere a mangiare questo proviamo la lasagna a tavola proviamola solo e diamo un giudizio costa poco non voglio mortificarti è la lasagna americana proviamola dai provola allora la assaggio solo la assaggio solo per farti contento la assaggio di che sa la assaggio si capisce non saprei definire non saprei definire mamma guarda è qualcosa ma io non so ma io non so ma tu ti sei dimenticato come si mangia veramente io non lo so pure si è vissuto tanti anni in Italia sbocciata ragazzi non è andata bene voto sotto zero zero meno 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 lasagna fallita